Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, anzi bentornati alla nostra sere dedicata al colonialismo del Regno d'Italia. Dopo aver parlato di varie zone del mondo, della Tunisia, dell'Africa orientale, anche qualche accenno all'estremo oriente, nelle ultime due puntate ci siamo spostati a parlare della Libia. Abbiamo raccontato come la Libia fosse stata conquistata durante le guerre italo-turche del 1911-1912 e abbiamo raccontato anche come questa conquista fosse in realtà molto effimera, perché alla fine della guerra, nonostante gli accordi internazionali, l'Italia controllava solo una strettissima striscia di territorio costiero. Beh, nella puntata di oggi parleremo, faremo un passo avanti e parleremo proprio di come gli italiani cercarono di conquistare l'interno della Libia, come vedremo in parte ci riuscirono, ma di come poi lo scoppio della Prima Guerra Mondiale fece completamente ribaltare tutti i piani, introducendo nuovi attori, rendendo gli scontri difficili e rendendo in realtà difficile la vita agli italiani che ovviamente, avendo un fronte fino al 1915 così importante in patria, tolsero truppe alla Libia e costrinsero i governatori locali a lottare con pochissime risorse per cercare di mantenere una colonia che a quel punto sembrava quasi essere più un peso che un vero vantaggio. Racconteremo tutto questo e credo che sarà molto molto interessante per iniziare a capire un po' quali siano i rapporti tra gli italiani e i popoli locali. Ovviamente parleremo anche dei senussi che sono questo movimento religioso, politico-religioso che entra prepotentemente nella storia del Regno d'Italia. Parleremo di tutto questo oggi, ma come sempre, se non siete ancora iscritti al canale e non volete perdervi le prossime puntate, fatelo, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per essere raggiornato ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo dicendo due parole di geografia e di storia. Sì, perché prima di iniziare bisogna ovviamente, come al solito, dare due termini geografici perché mi rendo conto che magari siete tutti esperti della Libia, ma qualcosina bisogna sempre aggiungere. Abbiamo già visto nelle scorse puntate come in realtà la Libia, come stato, all'epoca sostanzialmente non esisteva. Si parlava di due territori completamente diversi. Da una parte c'era la Tripolitania, cioè la parte occidentale della Libia che gravitava intorno alla città di Tripoli. Dall'altra parte, a oriente, a este, c'era invece la Cirenaica che gravitava intorno alla città di Benghazi. Bene, queste due parti della Libia, come vedete sulla cartina qui a fianco, in realtà non erano le uniche perché, soprattutto nella parte di Tripolitania, si parlava di una parte costiera, la Tripolitania vera e propria, e di una parte invece interna che era il cosiddetto Fezzan, che aveva anche dal punto di vista delle abitudini della popolazione che viveva una netta divisione. Come è ovvio, la parte costiera era ricca, aveva sempre vissuto di commercio, mentre la parte interna, abitata da popolazioni berbere che vivevano tra le varie osi del deserto, aveva ovviamente avuto tutto uno sviluppo completamente diverso. E gli stessi ottomani, peraltro, avevano quasi sempre concentrato i loro sforzi proprio sulla parte costiera, lasciando che la parte interna fosse governata dalle varie tribù con cui invece avevano semplicemente degli accordi di tipo politico. La tribù magari riconosceva il dominio del sultano, che dall'altra parte invece concedeva piena e completa autonomia nei loro territori. Bene, il secondo punto, dal punto di vista geografico, è che questa suddivisione è ovviamente solo parziale, perché a loro volta tutte queste zone, lo vedete sulla cartina qui a fianco, erano divise in tutta una sottoserie di regioni. Ovviamente non ve ne parlerò di ognuna di loro, ma è bene capirlo perché ovviamente queste regioni, che molto spesso gravitano intorno a una singola città, saranno citate e saranno importanti proprio per il controllo del territorio. Il secondo punto di cui vorrei parlare riguarda invece un movimento politico e religioso, i cosiddetti senussi. Ora, i senussi avevamo già forse un briciolo citati nelle scorse due puntate, ma da questo momento in poi diventano sostanzialmente coloro che si oppongono al colonialismo italiano. Quando si dice senussi, a volte si fa confusione tra popolazione e movimento religioso, perché in effetti i senussi non sono un popolo, ma sono un movimento politico-religioso appunto, che era stato fondato nel XIX secolo da Mohamed ibn Ali al-Senussi, da cui appunto il nome di Senusia per il movimento e di Senussi per coloro che lo praticano, un movimento che era nato teoricamente tra l'Algeria e il Marocco, laddove era nato in effetti al-Senussi, che poi si era spostato verso l'Egitto, ma che aveva trovato molto, molto terreno fertile proprio in Livia. Che cosa predicava questo movimento? E cosa predicava questo Al-Senussi? Beh, la sua era una visione dell'Islam molto semplice, molto dei primordi. Dal suo punto di vista i veri musulmani avrebbero dovuto sia mettere da parte tutte quelle tendenze al modernismo, che ovviamente si stavano sviluppando soprattutto all'interno dell'impero ottomano, ma anche tutte quelle tendenze un po' misticheggianti dei Sufi, per intenderci, che stavano invece sviluppandosi in talte altre zone. Sostanzialmente ripulendo quello che era il credo originale per adattarlo, per tornare a riscoprire quello che era pronto il credo delle origini. Esistevano altri movimenti di questo tipo. In effetti al-Senussi durante la sua vita, passata non tutta in Libia assolutamente, ma molto tempo al Cairo, poi si spostò in Arabia, venne a contatto con alcuni di questi movimenti, come il movimento Wahabita, che ancora adesso sopravvive, il movimento che governa l'Arabia Saudita per intenderci. E molti di questi movimenti nascevano anche in opposizione all'impero ottomano, una cosa che in effetti al-Senussi tendette sempre ad allontanare da sé, concentrandosi piuttosto proprio sull'aspetto filosofico. Perché è così importante in Libia? Perché, come vi dicevo, in Libia questo movimento ebbe un terreno molto molto fertile, e tra tutti i paesi del Magreb fu quello dove si concentrò maggiormente questa dottrina. Una dottrina che, quando poi arrivarono gli invasori europei, se fino a quel momento non aveva particolarmente lottato contro gli ottomani, che comunque erano visti come fratelli di fede, una volta che invece arrivarono i conquistatori europei, iniziò a diventare un fortissimo oppositore di questo colonialismo, con sollevazioni, scontri, che inizialmente ci furono ovviamente nelle prime colonie francesi, in Algeria o in Tunisia, e che poi si trasferirono anche in Libia una volta che qui arrivarono gli italiani. Fu proprio contro questo movimento sempre più organizzato che gli italiani dovettero scontrarsi nel loro tentativo di espandere il loro dominio sulla Libia. Come abbiamo detto, quando finisce la guerra italo-turca, gli italiani, e una cosa importante da ricordare, non controllavano la Libia. Controllavano solo alcune città costiere della Libia, e letteralmente il loro controllo finiva poco fuori la città, dove peraltro per tutto il tempo della guerra molto spesso c'erano stati dei campi militari approntati dai turchi, dai libici che combattevano con loro, per cercare di ovviamente riconquistare quei territori. Quindi ripeto, alla fine della guerra italo-turca l'Italia controllava una strisce di territorio veramente piccolissima. Una volta finita la guerra, una volta ottenuto teoricamente la possibilità di prendere il controllo del resto del territorio, l'Italia aveva iniziato a cercare di espandere il suo controllo, e aveva cercato di farlo in due modi. Da una parte c'era la visione del Ministero delle Colonie, sotto la quale ovviamente la Libia teoricamente ricadeva, che fin dall'inizio aveva cercato un'espansione il più possibile pacifica, cercando di fare accordi con i capi tribù locali, ovviamente promettendo regalie, piccole concessioni, a patto che questi giurassero fedeltà ovviamente all'Italia, e cercando in questo modo, progressivamente, costruendo presidi di espandersi. Dall'altra parte invece c'era la visione di molti militari, che pensavano che l'unico modo per conquistare quel territorio fosse fisicamente conquistandolo. Ora, d'ora in avanti parleremo di Tripolitania e Cirinaica separati, avanzando nel tempo, perché come vedremo in queste due regioni le cose andranno in maniera molto, molto diversa. Partiamo dalla Tripolitania. In Tripolitania i progetti del Ministero, in effetti, si scontrano ben presto con il governatore della Tripolitania nel 1912, cioè Ottavio Ragni, il quale era un militare, aveva partecipato praticamente a quasi tutte le avventure coloniali italiane, aveva partecipato alla conquista dell'Eritrea, addirittura aveva partecipato ed era sopravvissuto alla battaglia di Adua, il quale aveva fin dall'inizio chiaro che dal suo punto di vista la conquista potesse essere solo militare. E così, mentre il Ministero trattava, lui mandava le sue truppe a conquistare la maggior parte dei capisaldi intorno alla città di Tripoli per poi espandersi progressivamente, prendendo il pieno controllo di tutte le coste. Durante questi scontri ci furono, ovviamente, anche chi gli resistette e tra questi uno dei più famosi fu Suleiman El Baruni, che è famosissimo in Libia perché è questa specie di partigiano soldato, chiamiamolo in questo modo, quest'uomo che era venuto in Libia proprio apposta per combattere gli italiani, che era già famoso all'epoca come poeta, come autore di libri, e che guiderà una rivolta nella zona tra misurata e Tripoli, una rivolta contro cui Ragni si scontrò, riuscendo a sedarla. El Baruni scapperà e continuerà a rappresentare una grossa spina nel fianco per gli italiani. Questi scontri, in realtà, ben presto portarono Ragni in opposizione con il Ministero, che non apprezzava molto la cosa, e portarono la sua sostituzione, in realtà, come vedremo, ogni anno ci sarà sostituito il governatore, proprio per prassi, e il suo successore, in realtà, in maniera un po' più cauta rispetto a lui, continuerà la sua stessa politica, anzi, secondo alcuni, seguirà esattamente il piano che era stato programmato da Ragni, e se questi si era espanso inizialmente lungo la linea di costa, inizierà a mandare le sue truppe sempre più in profondità. Ora, l'avanzamento in profondità nel Fezzan seguiva due direttrici. La prima era per cercare di conquistare i confini del territorio della Tripolitania verso la Tunisia. La cosa aveva due scopi. Uno, intanto, stabilire una linea di demarcazione tra ciò che era francese in Tunisia e ciò che era italiano in Libia. Il secondo era cercare di bloccare proprio il commercio che dalla Tunisia passava alla Libia, perché molto spesso era proprio attraverso questo commercio che le armi, i rifornimenti, il denaro arrivavano in Tripolitania. Chi mandava queste armi, questi rifornimenti? Beh, innanzitutto li mandava ancora all'impero ottomano, perché anche se teoricamente l'impero ottomano aveva rinunciato al controllo della Libia e aveva promesso di non supportare più i selussi o chiunque si fosse ribellato, la cosa non era esattamente così vera. In effetti Italia e Turchia continuarono ad accusarsi l'un l'altro di avere violato gli accordi. La Turchia disse all'Italia che aveva violato gli accordi di pace di Lausanna perché non aveva restituito il Dodecaneso, ricordate le isole situate nel mare Geo, alla Turchia. L'Italia dall'altra parte invece continuava ad accusare la Turchia, abbastanza ragione in effetti, di avere invece a sua volta violato quegli accordi perché continuava a rifornire i ribelli. Il risultato è che il Dodecaneso rimaneva italiano e i ribelli continuavano a essere riforniti. Alcuni venivano però riforniti anche dalle popolazioni vicine, che appunto in questo movimento della Senusia rifornivano i ribelli libici perché combattessero contro gli italiani. La seconda via di espansione italiana nel 1913 però fu verso sud, attraverso il territorio che abbiamo visto prima chiamarsi Fezzan. Ora, quel territorio così fortemente desertico non aveva grosse città da conquistare o tanti paesi da conquistare. Quello che vennero a crearsi furono dei caposaldi lungo le oasi, che erano fondamentali perché a tutti gli effetti erano dei punti di passaggio obbligati attraverso le vie che attraversavano il Fezzan. Quindi gli italiani mandavano delle colonne che occupavano un'oasi, costruivano spesso un fortino da difesa e poi la difendevano in questo modo potendo controllare tutto il traffico. E nel corso del 1913 in Tripolitania questa lenta e progressiva avanzata si era spinta addirittura fino alla parte più meridionale della Libia, dove si era arrivati a conquistare addirittura l'oasi di Gat. La vedete qui a fianco, è praticamente nella parte più meridionale del Fezzan della Tripolitania. Quindi insomma l'espansione del 1913, anche se non aveva permesso di prendere pienamente il controllo del territorio, c'erano tantissime tribù che ancora sfuggivano al controllo italiano, in qualche modo aveva preso il controllo delle vie di comunicazione. Se ci spostiamo in Cirenaica invece la situazione fu fin dall'inizio molto più difficile. Innanzitutto perché in Cirenaica era stata molto più forte la presenza turca durante la guerra e anche se fisicamente la maggior parte dei turchi se n'era andata, non così per tutti, ad esempio Ender Pasha, ve lo ricordate uno dei comandanti che era venuto proprio qui in Libia, rimase ancora per alcuni mesi in Libia a organizzare questa resistenza. Ebbene, fin dall'inizio i ribelli della zona della Cirenaica furono decisamente meglio armati perché avevano a disposizione non solo fucili ma anche mitragliatrici, addirittura dei cannoni ed ereditarono peraltro tutte le posizioni fortificate che i turchi avevano creato proprio al di fuori della città. Il governatore della Cirenaica, peraltro che era un uomo duro, con un passato strettamente militare e che forse ancora meno di ragni credeva nella diplomazia, fin dall'inizio cercò di estirpare questa resistenza semplicemente utilizzando le armi. Le cose però non andarono sempre benissimo. Le colonne italiane infatti, pur cogliendo tante vittorie, riuscendo progressivamente ad espandere i territori di controllo, avevano sempre grossa difficoltà a mantenere poi il controllo di quello che conquistavano e addirittura alcune volte caddero in delle vere e proprie imboscate come quella di Sidi Barrà in cui le truppe italiane assaltarono un fortino che pensavano essere tenuto solamente dai ribelli scoprendo troppo tardi che questi, addestrati dai turchi ad utilizzare le loro artiglierie, li avevano in realtà tirati in una trappola con gli italiani che vennero presi in mezzo dal fuoco di artiglieria e costretti a ritirarsi dopo aver subito addirittura un'ottantina di perdite. Un piccolo scontro a vederlo rispetto alla prima guerra mondiale, in realtà dal punto di vista coloniale un piccolo disastro che addirittura inizialmente gli italiani cercarono di occultare non riuscendoci perché, come potete immaginare, la stampa internazionale già all'epoca girava e fu proprio lei a svelare al mondo e poi a far rimbalzare in Italia quello che era successo. Questa sconfitta convinse anche in Cirenaica della necessità di cambiare in qualche modo la direzione e fu così che il nuovo governatore per il 1913 Giovanni Ameglio iniziò a cambiare la politica e anche in Cirenaica si cercò di arrivare a degli accordi con le popolazioni locali, accordi che pur in effetti abbastanza instabili in qualche modo resero la situazione un po' più gestibile per gli italiani che finalmente riuscirono peraltro anche a togliere le armi ad alcuni di questi popoli o quantomeno a limitare le armi pesanti, che poi era il grosso problema perché un conto era a trovarsi contro degli irregolari armati di fucili, un conto era a trovarsi contro chi aveva da sé artiglierie e mitragliatrici, ebbene riuscì in questo modo lentamente a disarmare una parte dei ribelli e progressivamente anche qua iniziare un'espansione verso sud della colonia di Cirenaica. Anche qui, come in Tripolitania, fu molto importante il controllo del confine, che in questo caso non era del confine ovviamente con i territori francesi, ma era il confine con l'Egitto, che era un protettorato, ovviamente un protettorato inglese, ma attraverso il quale, attraverso questo confine, passavano comunque armi e rifornimenti che arrivavano dalla Turchia, che ovviamente passavano sotto gli occhi degli inglesi, che più di tanto non si impegnavano a bloccare nel flusso, e arrivavano in Libia per armare i ribelli. Per cercare di aiutare le truppe italiane, che già stavano iniziando a diminuire di numero, perché molte venivano richiamate in Italia, anche perché si dava per scontato che la guerra in qualche modo fosse finita, i governatori, sia in Tripolitania che in Cirenaica, iniziavano anche ad organizzare delle truppe locali. In questo periodo, come abbiamo visto nella scorsa puntata, non c'erano solo italiani a combattere in Libia, ma c'erano anche molti reggimenti di Ascari, cioè truppe reclutate in Eritrea e in Somalia. Bene, in questo periodo, tra 1913 e 1914, si affiancano a queste truppe anche i primi Savari, che erano delle truppe a cavallo, non irregolari, ma quasi insomma, reclutate però all'interno dell'esercito italiano, le quali erano composte proprio da libici che venivano arruolati all'interno dell'esercito italiano. Ovviamente, oltre a queste truppe inquadrate nell'esercito, c'erano anche invece delle vere e proprie bande di irregolari, composte da truppe mandate da capi tribù, che affiancavano l'esercito italiano in alcune operazioni, che come vedremo si dimostrarono essere a volte anche proprio un grosso problema per lo stesso esercito italiano. Questa situazione di progressiva espansione, di progressiva presa di controllo del territorio, si interruppe alla fine del 1914. Ora, come tutti sapete, a metà del 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, l'Italia comunque inizia a ritirare, come vi dicevo, una parte delle sue truppe, ma alla fine del 1914 ad entrare nella Prima Guerra Mondiale è anche l'impero ottomano. E il sultano ottomano, nella sua forma di califo, quindi ufficialmente di capo, rappresentante spirituale dell'Islam, dichiara la Jihad, la guerra santa contro coloro che si opponevano all'Islam. Questo richiamo alla Jihad ovviamente rimbalzò anche in Libia e in qualche modo diede molta forza a tutti coloro che si opponevano agli italiani. Ora, alla fine del 1914 l'Italia non era ancora in guerra, quindi formalmente non eravamo ancora in guerra contro l'impero ottomano o nemici dell'impero ottomano, ma è ovvio che in qualche modo i ribelli utilizzarono questa scusa per riprendere le loro operazioni. Il risultato fu che tra novembre e dicembre del 1914 gli italiani si trovarono improvvisamente a non riuscire più a controllare il territorio, un po' perché avevano troppe poche truppe, un po' perché l'aumento della spinta da parte dei ribelli, la spinta da parte dei senussi, iniziò a diventare semplicemente intollerabile, tanto che sia il governatore della Tripolitania da una parte che il governatore della Libia, della Cirenaica dall'altra, chiese alle truppe progressivamente di ritirarsi, cercando di organizzare una specie di ritirato a scaglioni che funzionò solo in parte, perché alcuni dei presidi più isolati che o non ricevettero in tempo le richieste o furono troppo lenti nel muoversi, furono attaccati proprio da queste bande di ribelli e molto spesso completamente annientate. Ma nel giro di due mesi, grosso modo, venne organizzata la ritirata e gli italiani tornarono ad abbandonare tutto il vasto territorio desertico libico, mantenendo solo alcuni presidi e ritirandosi verso le coste. In Tripolitania, però, nel 1915, il nuovo governatore, Giulio Cesare Tassoni, decise che quella ritirata fosse stata esagerata, che gli italiani, è vero, avevano poche truppe, ma dovevano, se non volevano trovarsi in un vero e proprio stato d'assedio, cercare di mantenere almeno il controllo di alcuni presidi. E per questo, nella prima parte del 1915, diede ordine alle sue truppe di riconquistare alcuni dei fortini, soprattutto quelli verso il confine con la Tunisia. L'idea di per sé non era così malvagia, ma le truppe italiane erano troppo, troppo poche. E per poter supportare questa invasione fu necessario appoggiarsi molto proprio a quegli irregolari libici. Il risultato fu un'altra sconfitta, la sconfitta nella battaglia di Gazr du Abi, una battaglia che avvenne più o meno nella zona della Sirte, quindi poco a este rispetto a Tripoli, e che vide le truppe italiane, composte da circa un migliaio di italiani, un 2.000 Ascari e circa 3.000 irregolari, assaltare un campo fortificato proprio dei ribelli. Peccato che al momento in cui si arrivò veramente allo scontro, i 3.000 irregolari libici tradirono gli italiani. Prima assaltarono le colonne di rifornimenti, rubando cannoni, mitragliatrici, fucili, rifornimenti, e poi piombarono con i loro cavalli alle spalle degli italiani che si trovarono praticamente presi tra due fuochi, e furono costretti a ritirarsi anche loro con grandi perdite. Quella sconfitta fu in realtà solo la più grande di quelle che gli italiani subirono in quei mesi, con il risultato che tutti i tentativi di Tassoni di riprendere il controllo dell'interno fallirono, e progressivamente gli italiani, anche su ordine di Roma, che ripeto dal 1915 con l'ingresso in guerra sostanzialmente si dimentica quasi completamente della Libia, gli italiani furono costretti a ritirarsi. E così, sia a Tripoli, sia in Tripolitania, sia in Cirenaica, gli italiani, a metà del 1915, erano tornati su loro posizioni di partenza, mantenendo il controllo di alcune città costiere, fortificati letteralmente come se fossero in dei fortini, dopo aver perso tutto il controllo dell'interno. Insomma, tre anni quasi di guerra, da 1912 a 1915, per tornare semplicemente sulle posizioni di partenza. Una volta ridotta così tanto la presenza italiana, i Senussi, guidati dal loro capo, e la IED, decisero, ovviamente spinti dagli ottomani, che continuavano a cercare di rifornirli di armi e di aiuto militare, addirittura utilizzando dei sottomarini tedeschi, che proprio portavano armi, munizioni e rifornimenti ai Senussi. Bene, i Senussi decisero di attaccare anche l'Egitto, proprio su ispirazione da parte degli ottomani, che speravano in questo modo, in qualche modo, di sollevare l'Egitto contro gli inglesi, riuscire a conquistarlo, occupando quindi anche il canale di Suez, e peraltro togliendosi loro stessi una spina nel fianco, perché gli inglesi, come sapete, durante la Prima Guerra Mondiale compirono numerose sortite verso la Palestina, verso i paesi arabi. Il tentativo da parte degli ottomani però fallì. Fallì per due motivazioni. Uno perché gli egiziani non si sollevarono, nonostante le richieste del califo rimasero sostanzialmente uno stato relativamente stabile e non si andarono a scontrare con gli inglesi, a parte piccole scaramucce. Secondariamente perché gli inglesi, che avevano molte più truppe in Egitto di quanto gli italiani avessero in Libia, anche se con qualche difficoltà, riuscirono a respingere i tentativi dei Senussi. Gli inglesi molto spesso iniziarono a utilizzare in Egitto le stesse tattiche che erano state utilizzate dagli italiani, quindi utilizzare gli aerei, utilizzare anche mezzi veloci, come delle prime camionette corazzate proprio per contrastare questa cavalleria dei Senussi e grazie a queste tecniche riuscirono a sconfiggere i ribelli, ricacciandoli più volte in Libia e alla fine addirittura minacciandoli di un'invasione dei loro territori. Queste sconfitte fecero perdere consenso al capo dei Senussi, che nel 1917 sarà sostituito dal nipote Idris, futuro peraltro re Idris di Libia, ma di questo ne riparleremo tra qualche puntata. Idris fin dall'inizio si rese conto che per i Senussi la situazione poteva essere molto difficile se si fossero trovati presi tra due fuochi. Inoltre era forse decisamente più realista dal punto di vista della politica estera rispetto allo zio e si era reso conto che in quel 1917 l'impero ottomano ormai stava perdendo gran parte della sua forza e il rischio era che i libici si trovassero a combattere letteralmente da soli. Per questo decise di prendere contatti con gli inglesi, ai quali chiese di poter stipulare un trattato. Gli inglesi insistettero perché il trattato non fosse fatto solo con loro, ma fosse fatto anche con gli italiani, con cui ovviamente, come sapete, erano alleati, e si giunse così agli accordi di El Acroma. Ora, gli accordi di El Acroma sono molto importanti perché, per due motivi, innanzitutto diciamo una cosa, valsero solo per la Cirenaica. E questo è importante, vedremo tra poco perché. Secondariamente, per la prima volta, gli italiani riconoscevano un capo senusso, quindi appunto Idris, come emiro della Cirenaica. Sostanzialmente qual era l'accordo? Idris accettava di deporre le armi, accettava di rinunciare a qualunque invasione dell'Egitto, accettava di rinunciare a minacciare le posizioni italiane o a poterle conquistare. Dall'altra parte, gli italiani accettavano che Idris diventasse emiro di Cirenaica, avesse un certo controllo sul proprio territorio, ovviamente dovendolo gestire in accordo con gli italiani, e almeno inizialmente accettavano anche che Idris non riconoscesse il dominio italiano sulla Libia. In realtà fu un accordo che resistette solo per pochi anni, perché quando poi finì la prima guerra mondiale e tornarono aumentare le truppe in Libia, quell'accordo sarà rinegoziato e Idris questa volta accetterà che gli italiani abbiano il dominio ufficiale sulla Cirenaica, anche se gli italiani continuarono a confermarlo nel ruolo di emiro. Quindi a tutti gli effetti si veniva a creare una specie di duplice livello, un po' come c'era al tempo degli ottomani, in cui le coste erano sotto il diretto controllo italiano, l'interno era sotto il controllo di Idris che però riconosceva che quei territori erano anche italiani. In Tripolitania inizialmente non si raggiunse un accordo del genere, i capi locali infatti continuarono a combattere per tutta la prima guerra mondiale, con gli italiani che, ripeto, trincerati nel loro città, sfruttavano qualunque occasione per cercare di tenerli fuori. Anche quando finì la prima guerra mondiale e gli italiani iniziarono a mandare nuove truppe, inizialmente i libici continuarono a combattere, si impossessarono delle armi dei turchi, ottennero tutto quello che potevano, ovviamente non avendo più da quel momento alcun appoggio internazionale, e continuarono la lotta. Ci volle fino al 1919, quindi l'anno dopo la fine della prima guerra mondiale, perché finalmente la diplomazia riuscisse a fare il suo corso e si giungesse agli accordi di Chalet-Zeituni, degli accordi che in realtà erano un po' una via di mezzo, perché sostanzialmente gli italiani chiedevano ai capi tribù libici di accettare il dominio italiano, ma dall'altra parte concedevano loro qualche piccola autonomia locale. Non veniva nominato un emir di Tripolitania, come era successo in Cirenaica, ma ad ogni capo locale veniva data una certa autonomia e soprattutto veniva data la possibilità di mantenere un piccolo esercito armato, anche se si chiedeva che tutte le altre armi, soprattutto le armi pesanti, venissero consegnate agli italiani. Questi accordi in realtà durarono pochissimo, questo perché fin dall'inizio gli italiani ebbero in mente di sfruttarli semplicemente per estendere il loro controllo sul resto della Tripolitania. Dall'altra parte i capi libici, che da quegli accordi avevano iniziato a creare anche dei piccoli organismi tra di loro, con cui cercavano in qualche modo di darsi un piccolo governo comunitario, se non di fare una vera e propria alleanza, ebbene i capi libici iniziarono a richiedere agli italiani sempre di più, a cominciare dalla richiesta di estendere gli accordi di Elacroma anche sulla Tripolitania, permettendo loro di scegliersi un emiro che avesse molto potere nel loro territorio, cosa che gli italiani ovviamente non avevano nessuna intenzione di fare. Il risultato fu che già nel 1920 si tornò a combattere, principalmente ripeto in Tripolitania, la Cirenai che inizialmente sarà più stabile, e si tornò a combattere con l'esercito italiano che stava nuovamente aumentando di numero, che si trovò a scontrarsi contro queste bande di ribelli che penetravano all'interno del territorio italiano, assaltavano fortini isolati e riportavano la guerra in corso. Nel 1921 l'Italia decise di intraprendere una nuova campagna di conquista della Libia, che in realtà, come vedremo nella prossima puntata, non durerà pochi anni, si trascinerà attraverso tutti gli anni 20 l'inizio degli anni 30 e, vedremo, sarà una campagna molto molto sanguinosa, perché non si limiterà alla Tripolitania, si estenderà anche alla Cirenaica e vedrà utilizzare delle tattiche di guerra molto più violente, molto più moderne, l'uso ad esempio di gas, vedrà gli italiani compiere massacri indicibili ai danni del popolo libico, e queste tutte cose che peraltro ci vengono ancora ricordate adesso, e che forse noi tendiamo a non raccontare troppo, ma che è bene anche quello ricordare, sarà una lunga, una lunga guerra, un lungo lungo conflitto, asimmetrico ovviamente, tra un esercito moderno e dei ribelli, ma questo conflitto lo racconteremo nella prossima puntata. Quello che mi piacerebbe vi portaste a casa dalla narrazione di oggi è questa. L'Italia, dopo la fine della guerra italo-turca, ebbe grosse difficoltà a prendere controllo completo della Libia, un po' per mancanza di truppe, un po' per la resistenza, se vi ricordate le scorse puntate, gli italiani addirittura pensavano allo scoppio della guerra italo-turca, che i libici sarebbero stati loro alleati nella guerra contro i turchi, figuriamoci invece come erano andate le cose, che cantonata gigantesca che avevano preso i nostri servizi segreti. Bene, tutto questo continuò per tutto la prima guerra mondiale e continuerà anche negli anni successivi. Vedremo appunto nella prossima puntata come andrà. Io mi fermo qua, spero di essere stato abbastanza chiaro, non vi ho citato tanti nomi parlando, vi ho messo qualche immagine per andare a scoprire qualche personaggio in più, ma ripeto, l'importante secondo me è capire come siano avvenuti e perché siano avvenuti certi avvenimenti, poi vi invito sempre se volete ad andare a approfondire, perché questi sono solo stimoli alla vostra curiosità, ma c'è tanto tanto in più da approfondire su questi argomenti. Ci vediamo, ripeto, la prossima puntata, come sempre la cosa più importante è essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun registra, ma è la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qui a fianco c'è l'elenco dell'epidolo, uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con un'apidola di storia lunedì prossimo per l'ultima puntata dedicata alla Libia. A presto, ciao ciao!